Bentornati, sono Marco Vigellini. Continuiamo con il nostro mondo del coding. Questa è la sfida che ci attende, la numero 7. L'aviamo lasciato qui all'inizio di questo punto il nostro agent, che andiamo a richiamare cliccando la lettera T, slash e digitando code. Invio e parte la app Code Connection. Clicchiamo il pulsante Scratch, aspettiamo che si carica l'interfaccia, carichiamo il nostro progetto che abbiamo costantemente salvato fino al completamento della sfida numero 6, scendiamo in basso, grandiamo come al solito ed eccoci qui. Allora, premiamo il tasto spazio in Scratch per permettere al nostro agent di raggiungerci. Allora, vediamo innanzitutto che cosa dice la sfida numero 7. Ci dice che dobbiamo scavare questa montagna, collezionare quanti più materiali possibili, perché poi dovremo costruire un riparo, e dovremo anche trovare alcuni oggetti e di collezionarne almeno una cinquantina. Allora, vediamo dove posizionare. Ecco, da questo punto in poi è possibile per il nostro agent scavare. Quindi io direi di metterlo, per esempio, qua, ok, qui, e cliccare spazio. Poi lo facciamo girare a sinistra due volte, in modo tale da guardare frontalmente la nostra montagna. Allora, cosa possiamo dire a questo agent? Innanzitutto vi dico che ho contato in precedenza che questi blocchi che vedete sono circa 25 blocchi, 26-27, insomma, a seconda poi di dove inizia il nostro agent. Pertanto noi per 27 volte, per esempio, dobbiamo dire al nostro agent di scavare qualcosa. Allora, noi come personaggi, premo F5, siamo alti due blocchi. Ok, quindi il nostro agent deve almeno scavare due blocchi in altezza. Io direi come prima cosa di provare a far scavare un quadrato 3x3, ok, al nostro agent. Quindi dovrebbe scavare questo blocco che non si vede, questo, questo in alto, questo in alto ancora, e scavare un blocco 3x3. Allora, proviamoci piano piano direttamente da scratch. Duplichiamo questo consueto blocco per andare a selezionare il tasto numero 7 creando un nuovo messaggio, il messaggio 7, invio. Duplichiamo questa serie di istruzioni per poi incominciare a correggerle come desideriamo noi. Adesso proviamo a buttarlo. Vediamo cosa possiamo fare. Allora, rivediamo per 27 volte cosa ritorno su Minecraft. Allora, innanzitutto immaginiamo che qui davanti al nostro agent sia comunque presente un blocco, perché poi quando si inoltra all'interno della montagna sicuramente si trova i blocchi dappertutto. Allora, la prima cosa che deve fare è deve distruggere davanti a sé. Anzi, proviamo a fare così. Duplica, davanti a sé, duplica, e muoversi in avanti. Una volta che è qui davanti, lui può scavare a sinistra, a destra, poi può scavare in alto e posizionarsi in alto e quindi ripetere di nuovo il fatto di dover scavare a sinistra e a destra. Quindi proviamo a farlo. Distròi sinistra, duplica, distròi destra, poi diciamo al nostro personaggio di scavare in alto, a questo punto lui deve anche muoversi in alto, move su. Una volta che il nostro agent si trova in questa posizione centrale, lui deve ripetere le stesse cose che ha fatto prima, quindi un qualcosa del genere, provo a duplicare tutto questo, ragioniamo ad alta voce, e lui dovrebbe distruggere a sinistra, distruggere a destra, andare su e muoversi nuovamente su. Ok. Si trova dunque al terzo livello e lui deve scavare a sinistra, scavare a destra e scendere di due. Quindi, è andato su, duplica, scavare a sinistra, scavare a destra, non deve distruggere perché non ci serve a niente adesso, ma deve muoversi giù due volte. E ok. Detto questo, dobbiamo anche far collezionare tutti i blocchi che abbiamo distrutto. E tutto questo devi fare per 27 volte. Adesso io premo in scratch il tasto numero 7 e vediamo cosa fa il nostro agent. Ok. Via. Sinistra, ok. Sinistra, sinistra, destra, 6. Ok. E colleziona i blocchi. Ok. Quindi sta creando un quadrato 3x3. Ah, perfetto. A questo punto, intanto che lui scava, proviamo a pensare ad un altro tipo di pattern. e per esempio gli facciamo, gli potremmo far creare una sorta di vediamo qua se riesce, ok, sì, forse qua è meglio, una sorta di croce, cioè lui dovrebbe distruggere soltanto questi blocchi, questo e quest'altro. ok. Come potremmo fare? Ovviamente lo posizioneremo qui, il nostro agent, lo facciamo andare avanti, in alto di un blocco, poi gli faremo distruggere questo al centro e poi tutti quelli che lo circondano. Avanti e tutti quelli che lo circondano. E così via. Allora, anzitutto vediamo se il nostro agent ha terminato e ancora no. Vediamo, ecco. Perfetto. Perfetto. Vediamo quando ha terminato. Perfetto. Tasto destro sull'agent, guardandolo con la croce direzionale ovviamente, ha collezionato diversi materiali. Ora, abbiamo detto, proviamo a teletrasportare il nostro agent spazio qui e gli facciamo, diciamo, costruire una croce. Quindi, tasto destro. Il ripeti, secondo me serve comunque 27 volte. La prima cosa che deve fare, duplica però, è andare in alto. Move su. Poi distruggere davanti a sé, muoversi in avanti, distruggere a sinistra, distruggere a destra, distruggere sopra. No. Allora, aspettate. Distruggere duplica sopra, sotto. E poi, collezionare il tutto e ripetere questa volta. Ok, questo per esempio potrebbe essere un un motivo di, un'altra sfida che potete raccontare, chiedere ai vostri ragazzi. premo il tasto 7 per dire, provate a far disegnare al vostro agente, a fargli scavare soltanto la forma di una croce. Ok, vedete che lui si è posizionato al centro. Poi ovviamente questa la possono, diciamo, creare questa forma come meglio credono, magari posizionando di sin basso, scavando, andando in alto, scavando, muovendosi ancora e scavando. io ho pensato che mettendosi al centro il nostro agent riuscisse a distruggere in maniera più semplice e probabilmente anche con poche istruzioni la montagna secondo appunto il pattern che abbiamo chiesto. vediamo quale altro pattern possiamo fare io vedo qui una sorta di scala potremmo chiedere chissà dove arriva potremmo chiedere al nostro agente di innanzitutto premo questo lo butto premo spazio il nostro agente è posizionato potremmo fargli scavare una scala quindi avanti scava scava in avanti e va in avanti poi va in alto scava in avanti e va in avanti e poi va in alto scava e va in alto però c'è un problema allora diciamo che l'obiettivo è quello di far costruire il nostro agente delle scale quindi finché stiamo fuori dalla montagna va bene però guardate in questa posizione quando lui scava questo blocco poi non riesce ad andare in alto perché sbatterebbe la testa quindi prima di andare in alto lui deve scavare e poi andare in alto quindi potrei poi saltare un'altra problematica mi sta venendo in mente sì dovrebbe essere sì è una problematica e che se dovessi diciamo il nostro agente così per come l'ho detto riuscirebbe a creare le scale io sicuramente non ci passo perché io per salire le scale ho sempre bisogno di due blocchi in altezza quindi lui una volta che sale in alto scavando questo blocco deve provare a scavare anche quello poco più in alto perché in quel modo a me permetterebbe di salire proviamo a farlo insieme è un po' complessa questa allora 27 volte adesso credo proprio di no perché probabilmente andiamo molto più in altezza però lasciamo i 27 perché non non lo so allora lui deve sicuramente distruggere davanti muoversi in avanti questi qua dobbiamo toglierli poi ogni tanto lo facciamo collezionare poi move forward e anzi lo facciamo collezionare subito perché ha appena scavato poi abbiamo detto che lui deve scavare in alto su perché è appena andato avanti e se lui prova a salire non sa se c'è un blocco sopra di lui quindi lo dobbiamo dobbiamo fargli scavare in alto lo facciamo muovere in alto non appena lui si muove in alto noi distrò sì dovrebbe essere giusto gli proviamo a far scavare in alto nuovamente così lui ci scava due blocchi in altezza vediamo quello che siamo riusciti a fare premo il tasto 7 in scratch è arrivato il messaggio ok questi qua non li distruggeva perché erano come si dice protetti però come vedete io riesco a salire per bene perché lui mi distrugge un blocco e il secondo blocco sopra di me perfetto e riesco a salire io penso che adesso perdremo il nostro agent ovviamente perché per 27 volte lui va in alto ok come vedete il nostro agent vola io credo che la nostra sfida sia sufficientemente completata e penso che ci aspetta la sfida numero 8 che vedremo però in seguito a Grazie a tutti.